benvenuti al secondo appuntamento con ritrovarti il nostro progetto finanziato da Fondazione CR Firenze nell'ambito del bando Emergenza Cultura e una delle caratteristiche di questo progetto è quella di incontrare gli artisti che suonano prima dei loro concerti e sono tutti giovani musicisti, giovani musicisti toscani che tengono non solo un concerto ma un piccolo tour nella nostra regione e questo per noi è un modo sia per far sì che eh giovani musicisti tornino a calcare i palchi della Toscana sia anche perché la musica dal vivo torni ad incontrare le persone e si riprenda la buona abitudine di frequentare i teatri e le sale da concerto dopo un periodo che è stato per tutti complicato e per che per causa di forza maggiore ci ha tenuto ovviamente lontano dai luoghi di spettacolo e il secondo appuntamento del progetto di trovarti è con il quartetto Cherubini quartetto di sassofoni di cui abbiamo qui oggi tre rappresentanti a cui do il benvenuto. Ciao ragazzi. Ciao grazie. Ciao. Buonasera. Ciao. Adele Odori eh Simone Brusoni Ruben Marzà ehm allora iniziamo raccontando un po' come è nato il vostro progetto il vostro quartetto come vi siate trovati e come avete deciso di intraprendere questa avventura insieme. Allora noi siamo nati all'interno della classe di sassofono del conservatorio di Firenze eh perché circa nel duemilaquindici ci siamo trovati tutti iscritti al conservatorio di Firenze eh sotto la guida del maestro Roberto Frati e avevamo tutti degli esami da dare di quartetto e quindi che sarebbe diciamo la parte si può dire della musica da camera e quindi siamo stati riuniti in questo quartetto eh e abbiamo cominciato a dare i primi esami all'interno del conservatorio poi ci siamo accorti che ci poteva essere anche qualcosa di più oltre che diciamo tra virgolette la nostra carriera scolastica e abbiamo quindi cominciato anche a fare delle prove fra di noi eh abbiamo cominciato anche a partecipare a qualche concorso e da qui poi è nato tutto ecco. Non è facile portare avanti un progetto di musica da camera anche una bella scommessa no? Richiede un certo impegno, sapersi organizzare, proporre i propri concerti e insomma in questo senso è una una bella avventura su cui vi siete imbarcati da tutti i punti di vista. Sì sì ehm attualmente in questo periodo poi non è non è facile ecco però è un'avventura nella quale noi crediamo. Ecco sì. Il quartetto di Sassofoni fra l'altro è una formazione particolare no? Tutti eh tutti diciamo lo stesso strumento ma in diverse definizioni e in un certo senso è un po' il quartetto d'archi dei fiati no? Sì. Almeno per me ecco me la vivo un po' così. Sì eh effettivamente è così siamo un po' speculari rispetto al quartetto al quartetto d'archi nonostante che ovviamente le sonorità siano completamente diverse però la ricerca è è quella la ricerca musicale è quella diciamo è quella un po' simile no? Almeno nel nostro caso nell'impronta che diamo noi al quartetto al nostro quartetto la ricerca è quella verso eh il quartetto d'archi diciamo così. E invece chiedo a Simone come come è stato questo periodo diciamo segnato dal dal covid in cui trovarsi è stato molto più difficile suonare dal vivo ancora più difficile e quindi diciamo portare avanti un progetto come questo come l'avete vissuto sia come gruppo sia individualmente? Beh sicuramente il primo il primo lockdown è stato molto impattante perché c'era nel 2020 c'erano tanti progetti da portare avanti tanti concerti e di colpo sono stati annullati e successivamente eh la parte dell'inverno del 2020 e la primavera del 2020 uno è stato un altro momento fermo. Abbiamo avuto la fortuna di essere una formazione che fa tanti concerti anche all'aperto quindi abbiamo sfruttato il periodo estivo per per fare concerti anche in sedi talvolta insolite siamo stati anche ne diciamo la montagna però ecco da questo punto di vista purtroppo tutto il processo di crescita di ricerca artistica e anche magari l'aspirazione a fare qualche competizione anche a livello internazionale eh risultata più difficile però ecco ora fortunatamente con con queste riaperture si comincia a rientravedere una progettualità più sul lungo termine. Tra l'altro avete anche come quartetto diciamo dei bei punti fermi già messi a segno nella vostra carriera no? Riconoscimenti, registrazioni e raccontiamo magari un po' anche questo aspetto a chi ci segue. Beh sì a luglio dell'anno prossimo eh incideremo un cd eh dedicato proprio all'origine del quartetto di Sassofo quindi composizioni eh della seconda metà dell'ottocento nella quale affronteremo proprio un lavoro di ricerca artistica eh in questa direzione poi chiaramente abbiamo in cantiere di tornare a fare competizioni musicali eh nel campo della musica da camera e vogliamo continuare a sviluppare i nostri progetti sia a livello di repertori ma anche a livello proprio di di produzioni musicali anche coinvolgendo altri artisti o addirittura anche il teatro eh ed altre forme di produzione artistica. Ruben che programma avete scelto, avete pensato per questi concerti? Beh nei nostri concerti a noi piace sempre proporre, cercare perlomeno di spaziare in tutte quelle che sono le possibilità della nostra formazione cercando appunto di mostrare eh come un po' già stato detto che il sassofono spesse volte viene legato a un'immagine un pochino eh c'è una concezione un po' ristretta dello strumento mentre invece il quartetto in modo particolare può veramente eh spaziare e assumere tantissime tantissimi abiti potremmo dire eh calzare tanti tanti panni diversi e spaziare nel tempo e nello spazio dei generi e quindi ecco avremo partiremo dal del repertorio originale con quello che è uno dei dei brani più 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 noti della letteratura per sassofono per quartetto che è la suite ellenica di Pedro Turralde e dopo di che ci dedicheremo a un vasto diciamo un programma di di trascrizioni a partire dal repertorio classico con Handel per arrivare fino al novecento con dei generi che sono particolarmente efficaci potremmo dire restituiti tramite il quarto di sassofono che sono il ragtime e il tango di Astor Piazzolla ma nel mezzo avremo eh anche lo spazio dedicato alle colonne sonore colonne sonore sia dedicata al mondo del teatro con la eh un arrangiamento dall'opera da tre soldi un arrangiamento che ormai è diventato classico per il nostro repertorio nella nella trascrizione di John Harle quindi dalla dell'opera da tre soldi di Kurt Weill fino ad arrivare a Morricone e al suo nuovo cinema paradiso delle sue eh creazioni più eh sicuramente più più note e più più affascinanti e ovviamente essendo visto il periodo termineremo certamente con una sorpresina dedicata appunto alle alle feste imminenti. Diamo magari un po' di riferimenti anche a chi sta ascoltando questa intervista la vostra pagina Facebook i vostri riferimenti social se avete un sito internet e magari anche se avete dei video vostri su YouTube così che in attesa di venire a sentirvi dal vivo insomma si può andare un po' a curiosare su quello che proponete. Certo ci trovate su Facebook con il nostro nome Quartetto Quartetto Cherubini ci trovate su Instagram e su YouTube dove abbiamo alcuni video sia live sia diciamo registrazioni in studio di alcuni brani sia eh brani originali sia degli arrangiamenti quindi ecco potete già farvi un'idea di quello che andrete ad ascoltare nei nei prossimi giorni. Noi diamo invece anche tutti i riferimenti per andare ad ascoltare dal vivo il Quartetto Cherubini perché lo trovate appunto il prossimo fine settimana un po' a giro per tutta la Toscana perché il diciassette eh suoneranno a Grosseto il diciotto ad Arezzo a Camu Casa della Musica in Piazza Grande e il diciannove la mattina alle dieci e trenta a Firenze all'auditorium Otto Neurosai. Poi seguite tutti i loro riferimenti appunto la pagina Facebook e social eccetera in modo tale che poi sarete sempre aggiornati anche sui loro prossimi appuntamenti e sulle novità che avranno in cantiere. Ragazzi io vi ringrazio molto e diamo appuntamento al pubblico per ritrovarci dal vivo come appunto dice il nostro progetto quindi le aspettiamo tutti ai concerti. Grazie a te, vi aspettiamo. Grazie. Grazie. Ciao.